buongiorno a tutti allora proseguiamo proseguiamo con il video del gigione che riguardano i campionati europei allora al campionato francese si deve giocare una partita stasera dovrebbe essere lille contro adesso vi dico lille lione stasera alle 21 quindi non vi posso dire nulla vi farò il video della notte tra lunedì e martedì spero il campionato italiano sappiamo benissimo ci sono ancora due giornali due partite da giocare che contano c'è salernitana la talantala alle 18 e udinese napoli alle 20 e 45 due partite che contano perché l'atalanta si sta giocando l'europa e visti i risultati potrebbe avvicinarsi alla zona champions e udinese napoli ragazzi via il napoli dopo la sconfitta della fiorentina vediamo se gli interessa la conferenza o meno una vogliono lasciare al torino ma vedremo poi i risultati anche di che cosa ha fatto torino sappiamo cosa ha fatto quindi vedremo vedremo ma ne parleremo appunto nella notte poi vedrò il campionato inglese ma adesso ragazzi miei andiamo a vedere come è andato il campionato tedesco perché mi hanno fatto notare alcune cose che si differenziano molto da quello che accade in italia infatti sono tutti abbastanza un po così ma si sa ma in italia lo sappiamo le ultime giornate vanno sempre così da 40 anni cioè io ormai purtroppo sono diversamente giovane cerco di fare il giovane mi fa piacere quando mi dico gigi non è possibile che tu hai l'età di mio padre qua la so giù c'hai una mentalità di vero però dell'età è quella ragazzi viene quindi per cui di partite ne ho viste di campionati ne ho visti di cose ne ho viste in Germania non succede ma partiamo dalla partita di venerdì tra Offenem e Lipsia che termina 1 a 1 con Lipsia che si vede espellere Simons al 72esimo sul risultato di 1 a 0 a favore dell'Ipsia e proprio al novantesimo l'Offenem ha trovato il gol del pareggio quindi anche questo venerdì ragazzi miei la gara del campionato tedesco scusate il bronco di Riace devo dire la sua giustamente perché cos'è successo un altro under 2,5 al venerdì sera le partite del campionato tedesco al venerdì sarà un caso ma se andiamo a vedere le 32 partite partite giocate al venerdì riscusate e il bronco di Riace è incazzato perché odia che al venerdì le gare nel campionato tedesco debbano finire in under 2,5 con gol perché spesso e volentieri le partite del venerdì sera del campionato tedesco finiscono sempre con due reti e spesso le segnano entrambe le squadre quindi non solo under 2,5 gol più under 2,5 il top del top che penso paghi un bot anche se oramai conoscono i nostri polli quindi anche i boom maker tengono magari le quote basse o meglio relativamente basse perché comunque un under 2,5 con gol non è non è una situazione semplice però è anche stavolta 1 a 1 proseguiamo perché al sabato si sono scatenate a parte una partita che è ahimè ma non diciamo nulla arriviamoci il Leverkusen a differenza della mia Inter se ne fotte ma vedete è la differenza tra una squadra che ha ancora degli obiettivi e il Leverkusen si sta giocando l'Europa League è in tasca la finale purtroppo vedremo se la Roma riesce nel miracolo di andare a Leverkusen a vincere 2 a 0 e magari passare ai supplementari o ai rigori davvero dura però nel calcio tutto può accadere e in più c'è la finale a fine mese di Coppa di Germania quindi può fare il tripletino quindi restano sul pezzo l'Inter dall'altra parte ragazzi miei tra un mese inizia il campionato europeo e la Coppa America perché hanno deciso di fare il campionato europeo e Coppa America lo stesso anno per facilitare tutti i giocatori perché sennò cosa succedeva facendo gli sfalsati un anno c'era il campionato europeo e un anno c'era la Coppa America tu avevi sei giorni di giocatori che aveva nella squadra dei giocatori europei poi li aveva ad agosto l'anno successivo che avevi in squadra i sudamericani li aveva ad agosto in questo modo sia gli europei che gli sudamericani fanno il campionato quindi è come se ci fosse un campionato del mondo perché i giocatori che giocano militano in Italia stranieri la maggior parte sono o del Sud America o europei poi ce n'è qualcuno africano e infatti c'è la Coppa d'Africa che si gioca sempre a gennaio che rovina un po' i piani a certe squadre però non si può avere tutto e viceversa facendo così magari fanno in modo che il campionato l'anno prossimo lo iniziano un attimino più tardi però non si può neanche iniziare troppo tardi perché alla fine dell'anno prossimo c'è anche il campionato del mondo delle squadre una Coppa del Mondo delle formazioni delle squadre dei vari campionati europei sudamericani americani africani asiatici eccetera 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 poi l'anno successivo c'è il mondiale poi si riparte ancora con Coppa America eccetera ragazzi questi li vogliono vedere morti comunque stavamo dicendo il Leverkusen va a vincere in casa dell'Eintracht 5 a 1 beh coglioni scusate il francesismo io vedo oramai che il Leverkusen poi magari la Roma riesce nel miracolo e sarebbe tanta roba però poi Luglio Berlino perde in casa 4 a 3 col Bocco in una sfida per la salvezza diciamo così poi vedremo la classifica come messa però mi sembra che Luglio Berlino si era messa in una posizione un attimino più tranquilla il Colonia fa 0 a 0 col Friburgo è l'unico pareggio senza gol della giornata vi spoilerò un attimo poi lo Stoccarla ragazzi miei vuole il secondo posto lo Stoccarla batte 3-1 il Bayern Monaco che probabilmente emette la partita contro il Real Madrid e quindi ormai con in tasca la qualificazione per la prossima Champions calcolando che in Champions vanno 5 squadre tedesche e 5 squadre italiane sono le due nazioni che hanno fatto più punti nell'arco dell'annata in Europa e anzi l'Italia sta rischiando anche il primo posto contro le tedesche perché non si sa mai poi Werner Bremen e Borussia Monchenblatt fanno 2-2 in una partita tra due squadre che sono al centro della classifica più o meno il Borussia Dortmund batte 5-1 l'Ausburg il Wolfsburg batte 3-0 il Darmstadt e Heideheim e Mainz pareggiano 1-1 credo di avervene dette tutte perché qua vi ho messo le cose un attimino no è giusto è Unio-Berlino Boku 3-4 entrano Leverkusen 1-5 Heideheim e Mainz 1-1 avevo anticipato entrano Leverkusen che si è giocata domenica e ma perché volevo far notare appunto la differenza tra le due squadre ragazzi Leverkusen deve stare sul pezzo c'è ancora una semifinale di Europa League da giocare una probabile finale una finale di Coppa di Germania da giocare e loro giocano fanno allenamento giocando poi siccome sono forti entrano in campo fanno anche una partita chiamiamola così sufficiente ma sono talmente quest'anno Leverkusen è una macchina da guerra non so se è l'allenatore non so se è Fraalbruch ecco come cavolo si chiamano io un pensierino a qualche giocatore Leverkusen magari in scadenza di contratto l'anno prossimo se fossi in Marotta comincerei a dare un'occhiatina perché i tedeschi in Italia hanno sempre fatto bene tutti io sinceramente un giocatore tedesco che ha fallito in Italia forse Sammer ma perché non si è trovato non si è trovato bene ma era pallone d'oro ragazzi comunque andiamo a vedere la classifica o meraviglia o perché si fa interessante Leverkusen già campione di Germania 84 Bayern Monaco 69 lo Stoccarda si riavvicina a 67 vuole il secondo posto e il Bayern Monaco vuole tenersi il secondo posto perché sono dindini in più il Lipsi a 63 il Borussia Dortmund è a 60 prosegue la sfidona tra Lipsi e Borussia Dortmund per il ah no entrambe ragazzi miei Lipsi e Borussia Dortmund sono tutte e due in Champions ormai è quasi quasi sicuro che la Germania avrà 5 squadre in Champions così come è sicuro che l'Italia avrà 5 squadre in Champions poi bisognerà vedere la Stoneville nella gara di ritorno contro i greci se riesce nel miracolo di andare a vincere 3 a 0 o almeno 2 a 0 portarla ai supplementari portare a casa 3 punticini diviso 7 per col fatto che le tedesche hanno fatto abbastanza al pieno di punti sarà difficile anche perché il Borussia Dortmund ha due giornate dalla fine alla bellezza di 15 punti di vantaggio sull'Eintracht è sesto e in questo momento l'Eintracht è in Europa League poi dipenderà naturalmente per il settimo posto se l'Everkusen come è presumibile batterà il 25 di maggio se non sbaglio la finale il 25 di maggio il Kaiserslautern nella finale di Coppa di Germania in quel caso il Friburgo per ora per ora che ha 41 punti andrebbe in Conference perché qua c'è ancora grande lotta perché se tra Eintracht e Friburgo ci sono 4 punti di differenza e quindi per ora l'Eintracht è tranquillo di andare in Europa League Hausmann Werder Bremen no ma un po' tutte dal Wolfsburg 37 Werder Bremen 38 Eiden 38 Hausmann 39 Offen 40 e Friburgo 41 ci sono ancora due posti perché se 5 vanno in Champions 2 vanno in Europa League quindi Eintracht e Friburgo in Europa League e l'ottava va in Conference e quindi dal Wolfsburg che ha 37 punti fino al Friburgo che ne ha 41 e sono una, due, tre, quattro, cinque, sei squadre due possono ancora ambire una l'Europa League e una la Conference quindi è tutto ancora il divenire è tutto ancora aperto il Borussia Monchengblabak a 33 e il Bokum a 33 sono una posizione di tranquillità assoluta perché hanno la bellezza di quattro punti di vantaggio sul Mainz quindi non è che sono tranquillissime però quattro punti di vantaggio su sedi ancora disponibili probabilmente settimana prossima potrebbero già festeggiare la salvezza a meno che il Mainz non vinca e allora si riapre tutto chi invece paura paura è l'Union Berlino che appunto perdendo lo scontro diretto col Bokum 4 a 3 adesso ha il Mainz a un solo punto chi invece appare ormai rassegnato alla retrocessione è il Colonia 24 il Dunstan invece è già retrocesso da qualche settimana il Colonia 24 ha cinque punti dal Mainz e deve vincere tutte e due e sperare che il Mainz le perda allora andrebbe a 30 potrebbe addirittura andare a pari con l'Union Berlino ma penso che l'Union Berlino almeno un punto in due partite ne riesca a fare però bisogna anche vedere se il Colonia riesce a fare sei punti e quindi perché il Colonia non è ancora retrocesso certo se il Mainz vince la prossima chiude il discorso e a proposito andiamo a vedere la prossima giornata cosa ci regalerà è la penultima del campionato tedesco allora abbiamo Ausburg Stoccarda Borussia Möncheng Blabba Kain tra Francoforte scontro diretto ragazzi miei Colonia Unio Berlino qui All Colonia vince e allora riapre i giochi ma se non vince matematicamente in retrocesso Friburgo Eidenheim è una sfida per l'Europa Litzia Werder Brema Mainz Borussia Dortmund Danstad Hoffenheim Bayer Monaco Wolfsburg e Boku Leverkusen Diciamo che ci sono tante belle sfide interessanti ma soprattutto Friburgo Eidenheim e Colonia Unio Berlino sono quelle più tostevoli perché Colonia Unio Berlino significa salvezza Friburgo Eidenheim significa Europa Conference League E sarebbe clamoroso Unio neopromosso che al primo anno in Bundesliga riesce a raggiungere una competizione europea perché ragazzi miei col fatto che le tedesche hanno cinque squadre in Champions l'ottavo posto significa Conference e l'Eidenheim è lì a giocarsela vedremo vedremo però settimana prossima si potrebbe riaprire il discorso salvezza oppure chiudersi per sempre perché se l'Unio Berlino dovesse vincere col Colonia a quel punto si porterebbe teoricamente a più 3 più 4 sulla sul Mainz che tra l'altro ha una partita difficile contro il Borussia Dortmund che si sta giocando la Champions o meglio è già tranquillo perché attenzione perché Mainz Borussia Dortmund potrebbe esserci il biscottone perché tanto il Borussia è abbastanza tranquillo per la zona Champions loro ellipsia sono già ampiamente in Champions avendo una marea di punti sulla sesta quindi potrebbe anche andare in gita a giocare col Mainz ma non credo perché l'anno scorso il Mainz gli fece perdere lo Scudetto ricordiamolo e non si sa mai magari fanno come l'Inter l'anno scorso innanzi due anni fa due anni prima il Sassuolo mise il tappetino rosso all'ultima giornata al Milan che visse 4 a 0 vincendo lo Scudetto e noi che potevamo spedirli direttamente in Serie B e abbiamo fatto una partita un po' così vedremo se il Dortmund faranno le personcine serie oppure no tenendo conto che anche il Borussia Dortmund martedì gioca la gara di ritorno col Paris Saint Germain quindi potrebbe tornare da Parigi volando perché vanno in finale di Champions oppure con le orecchiette basse perché hanno preso quattro pere e sono andati a casa quindi potrebbero essere anche un po' incazzetti e vanno a Mainz e si vendicano vedremo io vi saluto vi ringrazio che mi sono dilungato troppo ci vediamo alla prossima ciao ciao